L'ennesimo Black Day al mercato di Vittoria si è consumato l'altro ieri come prezzo ai minimi storage, una media di 40 centesimi per i prodotti di qualità, tipo melanzane e zucchine, e di 20 invece per i prodotti di qualità inferiore. Non hanno molta voglia di parlare in quest'ora gli operatori commissionari che si aspettavano tra l'altro una congiuntura del genere. Tutto questo mentre arrivano da Spagna, Olanda e Tunisia ingenti quantitativi di ortaggi e pomodoro, senza che nessuno si prenda la briga dei controlli. Da qui anche una crisi procurata una commercializzazione senza regola, afferma dal Tavolo Verde Sicilia Francesco Aiello, e che rasenta spesso l'illegalità, ma al suo interno ci sono anche il dumping e la doppia fatturazione che concorrono a determinare il crollo repentino dei prezzi. Manca, dice ancora Aiello, anche una politica agricola nazionale all'interno dell'Europa e di questo recentemente a Roma, e abbiamo discusso con lo sottosegretario all'interno pubblico. Per la deputata regionale 5 Stelle Vanessa Ferreri, invece, si parla di un mercato ormai saturo, perché dopo le gelate invernali e dopo gli espianti dovuti alla virosi, sono state avviate nuove campagne agrarie entrate ad esse in produzione. In più, i prodotti che arrivano dall'estero, ma di controlli seri e rigorosi, non se ne parla. Un nostro disegno di legge all'Ars, tra l'altro, ricorda la Ferreri, già tre anni in commissione, senza che nessuno si prenda la briga di portarli in aula. Grazie a tutti.